da ogni proposito di cessione e avvia in presto un piano di rilancio, valorizzando un patrimonio importante per la città. Buonasera, io ti illustrerò il progetto Gormigliano Monaco. Il progetto Gormigliano Monaco è nato nel 2008 all'interno della rete europea IEP, con l'obiettivo tra gli altri di riappropriarsi e di rivitalizzare i giardini melis attraverso un percorso per e con gli adolescenti. A seguito dell'evento hip-hop denominato Gormigliano Monaco, nel quale si è somministrato ai ragazzi del quartiere un questionario sui loro bisogni e sui loro desideri, è nato il laboratorio REP, questo a cura dell'associazione La Stanza. Da allora il progetto non si è mai fermato, ha coinvolto diversi spazi del territorio e ha tenuto come obiettivi fondanti la riqualificazione del quartiere, in particolare nel parco urbano di Valeta Dio San Pietro.